I carabinieri di Castelvetrano hanno recuperato 150 kg di rame denunciato in stato di libertà alla procura di Sciacca due persone responsabili di ricettazione. Una di loro, un giovane di 24 anni, è stato sorpreso dai militari dell'arma proprio mentre bruciava un cavo di rame asportato poco prima dai pozzetti per l'illuminazione pubblica gibellina per privarlo della guaina che lo ricopriva. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per inquinamento ambientale. Il rame recuperato, se messo nel mercato illecito, avrebbe furtato oltre 1000 euro. La sua quotazione infatti si attesta sui 7 euro al chilo. Le indagini continuano per risalire ai cosiddetti grossisti della ricettazione. Risparmio del 10% dell'utilizzo dell'auto è l'obiettivo che si vuole raggiungere ad Alcamo attraverso la mobilità sostenibile. Il comune diventa esempio in Sicilia per le politiche ecologiche di contrasto al traffico veicolare impazzito. Organizzato un workshop dall'ordine degli architetti. Vediamo il servizio. Ad Alcamo ogni cittadino potrebbe calare mediamente l'uso dell'automobile del 10%, obiettivo che potrà essere raggiunto solo quando saranno messe a regime tutte le politiche di mobilità sostenibile da tempo oramai in corso di realizzazione. Questa la stima a livello europeo è che in prospettiva si vuole rendere operativa nel territorio alcamese, obiettivo che potrebbe apparire ambizioso ma il cui percorso è tracciato. Questione affrontata questa mattina nel corso del workshop organizzato dall'ordine degli architetti di Trapani sull'attività professionale e le politiche del mobility manager al 100 congressi marconi a cui hanno preso parte i vertici di Euro Mobility, l'associazione che riunisce i mobility manager d'Italia. La scelta di Alcamo non è stata casuale ma dettata dal fatto che il comune da tempo si è dotato di un mobility manager, una sorta di esperto a titolo gratuito su temi della viabilità. A livello siciliano uno dei pochissimi casi. Le politiche del mobility manager possono avere effetti benefici sul territorio a cominciare da un concreto risparmio per le tasche dei cittadini in relazione al fatto che si ridurrebbe l'utilizzo dell'auto per gli spostamenti in città ma anche per le possibilità a cascata di nuovi investimenti da parte delle imprese. Un ritorno in termini di accessibilità, una riduzione della congestione significa ridurre i tempi di spostamento, il tempo è danaro un po' per tutti ma anche la possibilità di inserire nuovi servizi sul territorio dal car sharing alle flotte di biciclette condivise, anche a servizi a chiamata, i taxi collettivi, quindi stimolare gli imprenditori privati affinché possano inserire sul territorio nuovi servizi e nuovi prodotti per i cittadini. Ad essere illustrati anche gli interventi programmati con il protocollo d'intesa tramite occidente sottoscritto ad Alcamo nel dicembre scorso tra il comune di Palermo e diversi comuni della provincia di Trapani e Palermo tra cui per l'appunto l'ente municipale alcamese per la costituzione di un tavolo partenariale e interistituzionale per lo sviluppo della mobilità sostenibile in area vasta. Gli obiettivi di questo protocollo sono certamente ambiziosi ma allo stesso tempo raggiungibili. Promuovere un'integrazione di trasporto tra i vari territori in modo da portare quella ricchezza che noi abbiamo, che è il nostro territorio, la nostra nuova astronomia in modo da semplificare i trasporti, renderli compatibili tra di loro, razionalizzare i trasporti per tutto il territorio d'Occidente in modo che il turista che venga qui in Sicilia occidentale possa godere dei benefici della vista delle nostre zone e noi dei benefici che il turismo porta. E' scoppiato un caso di presunto meningite ad essere colpito uno studente del secondo anno dell'Istituto Tecnico Industriale Ruggero d'Altavilla di Mazzara del Vallo che è stato ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. Sembra che la patologia, dopo alcune analisi eseguite a seguito di un malessere accusato dal ragazzo, risalga qualche giorno prima delle festività pasquali. Il Dipartimento della Prevenzione della Salute dell'Unità Ospedaliera Distrettuale di Mazzara, diretto dalla dottoressa Maria Sinacori, ha inviato ieri mattina all'Istituto Industriale del dottor Pietro Valdemone, dirigente medico, che ha confermato le procedure attivate nei giorni scorsi per la profilassi che deve essere limitata come da protocollo alle persone che sono state a contatto stretto del malato nei sette giorni precedenti all'insorgere della malattia. La politica, il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Enzo Sturiano, potrebbe rinunciare alla sua candidatura a sindaco per fare parte della sua squadra assessoriale del candidato sindaco Massimo Grillo. Un'eventualità che sancirebbe la rottura definitiva con l'ononevole Paolo Rugirello, recentemente transitato nel Partito Democratico. Grillo conferma i contatti. Sturiano è stato uno dei promotori della mia candidatura, ha dichiarato. Sono stato sollecitato a candidarmi in tempi recenti da diversi soggetti politici, compreso Enzo Sturiano, che ci sia un apprezzamento nei miei confronti e quindi innegabile. Ma è ancora prematuro parlare di un'eventuale designazione a vicesindaco, conclude Grillo. Prima viene l'adesione al programma. E parliamo invece adesso di trappeto, ritardi nel collaudo dei lavori di rifacimento della pavimentazione del centro storico. Il Tribunale ordina una perizia. Il Comune rischia di dover sborsare più di 50.000 euro di risarcimento alla ditta appaltatrice. Vediamo i particolari. Il Comune di Trappeto rischia seriamente di dover sborsare sonanti quattrini per i ritardi connessi ai lavori di completamento di riqualificazione del centro storico del Paese. Il Tribunale civile di Palermo, dove è in corso il dibattimento in seguito alla denuncia della ditta appaltatrice degli interventi, ha disposto di effettuare una perizia tecnica per quantificare i presunti danni. Un contenzioso nato, a seguito della denuncia della ditta stessa, che ha avuto in appalto questi lavori e che ha parlato di tempi troppo lunghi adottati dal Comune trappetese per l'esecuzione del collaudo. L'impresa ha chiesto un risarcimento di 51.000 euro. Le operazioni di collaudo, ha rilevato l'appaltatore Tommaso Carlisi, si sono svolte da parte del Comune oltre i tempi previsti nel contratto e ciò ha comportato danni e maggiori oneri a carico dell'impresa. La decisione di innescare questo contenzioso è stata presa dalla stessa impresa, dopo aver inviato al Comune di Trappeto prima un atto di diffide e successivamente una messa in mora nel giugno del 2013. Ad avere attivato questa procedura, il Consorzio Cooperative Costruzioni, Società Cooperativa e Limera, nella qualità di cooperativa socia ed assegnataria dei lavori. L'opera pubblica che ha causato questo contenzioso riguarda uno stralcio dei lavori di riqualificazione del centro storico di Trappeto. Si tratta della fetta che abbraccia le vie Vespucci, Ragusa, Solferino, Gravina, Discesa Marina e gli spazi interni dove è stata eliminata la sede stradale in conglomerato bituminoso e realizzata una pavimentazione in marmo con relativa illuminazione artistica e redi urbani. L'importo di questo appalto ammontava all'incirca 2 milioni di euro. Si indita il Comune, ha precisato Limera in una nota inviata all'ente municipale a provvedere immediatamente al pagamento delle somme risultanti dalla riserva esplicitata in sede di collaudo. La giunta guidata dal sindaco Pino Vitale, che ha ereditato questa situazione in quanto l'appalto risulta addirittura originario del 2008, ha dato in carico all'avvocato Luciano Russo di resistere in giudizio perché queste somme non sono dovute dal Comune. L'amministrazione comunale negli anni ha investito notevolmente sul centro storico, puntando proprio ad una complessiva riqualificazione con l'obiettivo di valorizzarlo. Si è tentato anche con scarso successo, considerate le lamentele dei commercianti, di provare a creare una zona a traffico limitato nelle aree interne del paese per evitare che il passeggio turistico fosse concentrato esclusivamente sul lungomare. Esperimento che durò appena qualche giorno, l'ordinanza proprio a seguito di queste forti proteste rientrò. Nonostante tutto, l'amministrazione comunale ha proceduto nel corso dell'estate ad abbellire alcune piazzette con piantumazioni di alberi, arredi urbani e ripristino della storica fontana di fronte al municipio, con l'intenzione proprio di rendere il paese più bello ed accogliente. A Castelvetrano hanno preso il via i lavori di sistemazione di due plessi scolastici cittadini, nello specifico si tratta della scuola elementare materna Luigi Capuana e della scuola media Gennaro Pardo. Complessivamente gli investimenti ammontano a 700 mila euro e sono previsti interventi per l'ottimizzazione e il risparmio energetico. Domani, venerdì 10 aprile, in occasione della giornata della prevenzione Aoi, associazione otorinolaringologi ospedali aieri italiani dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale, verranno effettuati screening gratuiti ed accesso libero presso l'ambulatorio del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, diretto da Carlo Gianformaggio. Porto di Marsala, la storia infinita, progetto ancora fermo, mancano i soldi della regione, si parla di 50 milioni di euro, tutto in stand by alla conferenza regionale dei lavori pubblici, piccoli passi in avanti sulla messa in sicurezza. Il servizio. Due anni di discussioni e polemiche, ma ancora il porto di Marsala resta lì, quasi dimenticato ad eccezione di qualche formalità che però purtroppo non trova sostanza. Nonostante il recente parere del Consiglio Comunale sulle opere di messa in sicurezza, sul piano concreto questa grande opera pubblica continua a stagnare. Infatti servono i soldi che ancora di fatto non sono stati stanziati dalla regione che probabilmente, almeno a stretto giro di posta, non verranno erogati, motivo per cui tutto è destinato a rimanere fermo. Il progetto infatti si trova ancora bloccato alla conferenza regionale dei lavori pubblici, organismo che lo scorso giugno ha rimandato al mittente il progetto perché mancavano alcuni requisiti. Nella relazione elaborata dalla stessa commissione veniva evidenziato che l'opera, che stando alle stime sarebbe costata circa 50 milioni di euro, non aveva la copertura finanziaria. La regione non ha ancora messo in bilancio neanche un centesimo per il porto di Marsala, neanche nei capitoli dei finanziamenti europei c'erano somme destinate ad hoc. Il progetto di messa in sicurezza del porto di Marsala è stato uno dei cavalli di battaglia dell'oramai ex sindaco Giulia Damo, sospesa, lo ricordiamo dalla carica lo scorso anno per una condanna subita e che subito dopo si è dimessa durante la campagna elettorale che l'ha portata nel maggio del 2012 al governo della città. Una guerra aperta con la Mir, la società di Massimo Ombra che sta portando al termine l'iter per la costruzione della marina di Marsala, una battaglia a suon di querele e richieste di risarcimento milionari che hanno fatto da cornice alla lunga e travagliatissima storia del progetto di messa in sicurezza. In questi giorni un piccolo, piccolissimo passo avanti all'unanimità il Consiglio Comunale ha approvato l'atto deliberativo relativo alle opere di messa in sicurezza del porto, esprimendo in buona sostanza parere favorevole sugli aspetti di natura urbanistica dell'opera che andrà a realizzarsi qualora però venissero erogati i fondi promessi dalla regione siciliana. Ecco appunto il condizionale d'obbligo, perché senza soldi non si va da nessuna parte, men che meno quando si tratta di opere pubbliche così importanti. La votazione del progetto per la messa in sicurezza del porto di Marsala in Consiglio Comunale è avvenuta dopo che ad inizio di seduta il dirigente del settore Grandi Opera del Comune, l'ingegnere Gianfranco Dorazio, aveva fatto chiarezza sulle perplessità in ordine ai tre progetti per la realizzazione delle fognature nella zona centro, zona periferia e litorale sud, per un importo complessivo di circa 22 milioni di euro. E parliamo di Alcamo. L'amministrazione comunale guidata dal Sinnaco Sebastiano Bonventre ha concesso il patrocinio gratuito alla Croce Rossa Italiana, comitato di Alcamo, per la realizzazione della manifestazione dal titolo Mai più violenza ad occhi chiusi, che si svolgerà sabato prossimo, 11 aprile, alle 22 in Piazza Ciullo. La manifestazione è promossa dalla Croce Rossa Italiana allo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro le donne e a tal fine, nella giornata dell'evento in Piazza Ciullo, verrà montato un gazebo dove sarà distribuito materiale informativo, proiettato un video sul tema della violenza e sistemato un'area dedicata a delle simulazioni di autodifesa. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto, adesso vi ricordo che va in onda la rubrica Clic curata dal professore Vincenzo Lucchese, subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario. A risentirci. Vincenzo Lucchese. Vincenzo Lucchese. A risentirci. A risentirci. Grazie a tutti.